Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con la Sentinella, bollettino della comunità di parrocchia in la Mongarina e San Donato. L'articolo di fondo del parroco Don Ivone, l'augurio ancora buona quaresima, ma è un messaggio che vale per tutto l'anno, è il riuscire a trovare il silenzio per rientrare in noi stessi e scoprire il senso pieno della nostra vita nell'amore di Dio. Un'altra figura molto amata alla Mong e non solo, padre Virgilio Pante, vescovo e merito di Maralal in Kenya, che racconta le sue vicende pastorali, la situazione della siccità anche nel suo paese, 300 poveri da sfamare e poi questo desiderio di creare la pace tra le varie eternie. Ancora da un reportage, da una lettera di Suor Dionella Fauro, Suora terziaria francescana elisabettina, che racconta di una esperienza, siamo in Argentina, di sinodalità dove si incontrano le persone, si fanno raccontare da loro le vicende e le situazioni. Una pagina è dedicata al Beato Giovanni Paolo I, viene dato conto della udienza del 6 settembre 78 sull'umiltà, dialogo con il bambino, la foto di Luciani seminarista. Viene dato conto dell'incontro alpino realizzato il 5 marzo. Poi una fotografia per ricordare, due fotografie ovviamente una per ogni persona, Rosa Angela Darugna, classe 1920, e Giuseppina Cecchin, classe 1921. Sono state festeggiate nella tradizionale festa dei compleanni che in molte strutture recettive si celebrano ogni mese. C'è poi la iniziativa, progetto Piovogo Lamon, presentazione della nuova collana tra Coppolo e Senaiga. Ecco l'interessante, questo libro, Lamonesi fra Pratiottismo, Sofferenza e Lutti, che sarà presentato il 22 di aprile, e poi il nostro martirio, il racconto dell'esperienza dell'invasione austro-ungarica a Lamon dall'11 novembre 17 al 3 novembre 1918. Racconti sicuramente interessanti. Aiuti all'Ucraina, il 13 gennaio, da Lamon, Santa Giustina, San Gregorio e Milano, sono partiti dei volontari per raggiungere Tarvisio, reoccuparsi ad altre città, sono arrivati a Leopoli e hanno portato in Ucraina 70 quintali di aiuti. 3.000 chilometri per un segno di solidarietà significativo. Abbiamo poi la documentazione degli anniversari di matrimonio, 60 anni, abbiamo i cento anni, cento candeline di Rina Bellotto, i suoi figli, 90 anni. È sempre bello ricordare queste figure che sicuramente, soprattutto ai lettori di Lamon, fanno piacere essere visti. La storia della nostra chiesa, dalla voce di Arina, Don Gaspar e Scaled nel giorno 26 maggio 1859 prende il possesso della nuova chiesa parrocchiale di Arina che era in quel momento diventa parrocchia autonomo, primo parroco di Arina. Qui abbiamo una foto degli anni 20-30 che presenta i cappati di una congregazione che faceva parte dell'esperienza religiosa di molte comunità. Giornata di sorveglianza al mausoleo del Monte Grappa, i turni degli alpini, due del gruppo alpini di Arina. San Donato, ancora una sottolineatura, un anniversario dell'anastica di padre Romano Bottegal, venerabile, con la tradizionale pelerinaggio a piedi dalla chiesa di Lamon a San Donato con tappe di meditazione e di ascolto sulla vita del venerabile. Il ricordo di una suora originaria di Lamon, madre Olga Bottegal, figlia della Carità Canossiana, morta a 133 anni, dopo 79 anni di vita religiosa ora viene dato conto della sua vicenda. Infine, le foto di coloro che hanno concluso la loro vita terrena, immagini soprattutto che richiamano incontri delle storie, delle vicende, delle presenze nel territorio di Lamon e non solo. Abbiamo visto la sentinella, bollettino della comunità di parrocchia in Lamonarina, San Donato. Passiamo a La Martinella, bollettino parrocchiale di Farra, Boscariz e Mugnai. La riflessione da Umirco Pozzobon ha dato la sua vita per noi, sottolineando questo mistero della Pasqua, una vita che si dona alla fine senza sconti, soprattutto una vita donata senza esigenza di reciprocità. Ecco l'immagine del Cristo in croce. Viene annunciato il nuovo titolo del bollettino che, probabilmente dal prossimo numero, se saranno completate le trafile burocratiche, si chiamerà Insieme. Parola proposta e scelta, anche nella finale era arrivata la parola Intreccio, che però è una parola che si può leggere in maniera anche negativa qualche volta. Invece Insieme è limpido, senza possibilità di equivoci, ci chiamano stili di conoscenza, condivisione, stima reciproca e collaborazione. È la strada che ormai molte comunità parrocchiali sono invitati a intraprendere, lavorando e vivendo insieme, in un reciproco scambio di donne, in un'accoglienza reciproca. A Farra celebrata la festa di San Martino, festeggiate anche le suore, la festa della congregazione, delle suore indiane, che servono la comunità di Farra, servono soprattutto la scuola materna. La Cresima, 30 aprile del 22, ancora a Buscariz, ricorrenza sentita, la festa della Madonna della Salute a Mugnai, viene dato conto di questa celebrazione. A Mugnai ancora la festa del ringraziamento, con la benedizione dei mezzi agricoli. L'omaggio, il ricordo e le congratulazioni di coloro che si sono laureati. Pagine poi dedicate ai resoconti economici parrocchiali, dettagliati, come avviene in tutte le parrocchie, vengono presentate entrate e uscite e la situazione economica. Il gruppo giovani ha effettuato una gita, le tre parrocchie insieme, che serviva proprio a consolidare questo legame anche tra i giovani delle tre comunità. In preparazione alla prima comunione, ecco la visita alla cooperativa Arcobaleno, è interessante il racconto, Aldo Bertelle, il responsabile della cooperativa Arcobaleno, ha fatto una lezione sull'Eucarestia, sul pane come simbolo, e poi la visita al Museo di Sogno, è un interessante modo di prepararsi a ricevere l'Eucarestia. Concorso presepi, con un tema particolare, il tema l'accoglienza, molto significativo in questo periodo. Viene dato poi conto delle attività della scuola dell'infanzia di Farra. La comunità sostiene questa struttura con le suore di cui dicevamo prima e qui viene presentato, vengono presentati alcuni aspetti del cammino educativo. Le foto dei bambini battezzati, matrimoni, e poi le foto dei defunti, come sempre richiamo a questa esperienza di vita trascorsa nelle comunità, che il volto presentato con i dati anagrafici richiama a coloro che li hanno conosciuti, con una memoria non raramente riconoscente e significativa di chi è vissuto con noi e ha servito la comunità. Le ultime foto, le prime comunioni che sono state celebrate l'anno scorso a Mugnai e ancora l'anno scorso a Farra di Feltre. Con questo chiudiamo la Martinella, bollettino parocchiale di Farra di Feltre, Boscariz e Mugnai. Passiamo a, tra i nostri paesi, bollettino interparocchiale e unitario di San Biagio in Calalzo, San Giorgio in Domegge, San Vigilio in Valle Sella e Grea, le tre comunità. Don Simone Ballis, parroco, urando Buona Pasqua, definisce la Pasqua il giorno che ha fatto il Signore e poi si sofferma a riportare una riflessione della grandezza della Pasqua, della festa della risurrezione, della festa della vita, attraverso le parole di Papa Benedetto, Papa Emerito Benedetto XVI, un'interessante riflessione che viene poi riportata nelle pagine seguenti sotto il titolo anche un doveroso spazio per Benedetto XVI che presenta la Ressurrezione come unica grande speranza per i cristiani. Il calendario liturgico della Settimana Santa trascorsa, proposta con tappe diverse nelle tre comunità. Viene anche dato il calendario degli appuntamenti nel prossimo mese di fine aprile, maggio e giugno. Sempre viva e intensa l'attività di queste tre comunità. Il grazie per il dono di Benedetto XVI con alcune foto che documentano la presenza del Papa in Cadore e poi viene riportato il suo testamento spirituale significativo da leggere per i contenuti intensi e significativi che dà. Vita della Chiesa, cammino carismale unitario tra le nostre parrocchie del Cadore, non solo le tre che abbiamo ricordato, ma anche quella di Pieve, di Lozzo e quindi questa di Valle e questo tai di Cadore infine. Ecco questo, camminare insieme anche in un'intensa azione spirituale con incontri, preghiere e conferenze come è documentato dal giornale. Don Francesco Di Stefano come aiuto pastorale in Cadore ecco a servizio delle comunità e a supporto dei confratelli paroci soprattutto in momenti di difficoltà magari per la salute. Don Francesco Di Stefano ha dato questa sua disponibilità e il Vescovo lo ha incaricato di questo servizio. Continuando, il ministero svolto da Don Giuseppe Genovese che ora vive nel suo antio paese a Treviso Don Pierluigi Larese, ora ospite nella casa di riposo di Euronzo di Cadore. Viene dato conto anche della morte di fratello Biagio Conte, l'angelo dei poveri. Don Simone ricorda che è stato incontrato anche dai nostri sacerdoti a Palermo, una sua testimonianza significativa. Vita comunitaria, la fine dell'anno, il tedeo comunitario, le tre comunità si sono trovate insieme per ringraziare il Signore per i doni ricevuti. Feste natalizie, momenti di festa e di comunità con fotografie che danno il conto anche di quanto si è fatto in questo periodo, per esempio vivente a Calalzo con coinvolgimento delle altre comunità con immagini significative. Si passa poi a presentare la festa della vita celebrata in febbraio a Valesella, i bambini battezzati nell'anno precedente. Poi abbiamo festeggiati a San Biaso in Calalzo gli anniversari di matrimonio, qui una foto significativa delle coppie che hanno vissuto traguardi importanti della loro vita matrimoniale. San Biaso in Calalzo, San Biaso festa del nostro patrono, qui abbiamo i sacerdoti del Cadore riuniti per festeggiare con i cristiani di Domeggie, di Calalzo, scusate, il patrono, il che abbiamo Don Alessandro, Don Simone, Don Diego, Don Ezio del Favaro, parroco di Euronzo e Don Osvaldo Belli, con i sacerdoti che servono la comunità di Cadore. Ecco, abbiamo poi la via Crutis animata dai ragazzi del Catechismo. A Domeggie si è realizzata l'esperienza del bruso alla veccia, ritorna la benedizione delle famiglie a Valesella e Grea, sarà celebrato la festa di San Giorgio. Ecco, spazio giovani, la vita associativa, sempre significativa anche in queste comunità. Abbiamo visto il giornale tra i nostri paesi, bollettino unitario di Calalzo, Domeggie e Valesella e Grea. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori buona continuazione con i programmi di Telebelluno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.